Una forza della natura, Linda, in acqua e fuori a giudicare da quanto accaduto nelle ultime ore, ha fatto il giro del web il suo sfogo social a denunciare una situazione inaccettabile. Cosa è successo? Linda Cerruti ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in una posa artistica, tipica del nuoto sincronizzato, scattata nella spiaggia dove è cresciuta, tra sogni e sacrifici. Purtroppo il post è stato preso d'assalto da tantissimi utenti che piuttosto che celebrare la campionessa hanno preferito pubblicare commenti volgari, sessisti e in alcuni casi anche beceri. Una situazione spiazzante per Linda che non ha nascosto la delusione per quanto accaduto. Delusione che si è poi trasformata in rabbia, come dimostrato dal lungo sfogo con tanto di screenshot a corredo. Un sedere e due gambe sono davvero quello che resta, l'argomento principale di cui parlare? Si è chiesta Linda che si è detta schifata per tutti coloro i quali hanno sessualizzato il suo corpo con commenti che non hanno nulla di simpatico. Anzi, di certo Linda non si vuole fermare allo sfogo ma è pronta ad andare avanti. La voglia di mandare un segnale forte è tanta e infatti la notatrice è pronta ad agire per vie legali. Ho pubblicato una foto con la spaccata verticale. È il mio sport per cui mi alzo ogni giorno alle 5 del mattino. Quello che c'era da scrivere l'ho scritto nel mio posto. Ora è tempo di agire. Voglio capire come procedere per vie legali, magari con la polizia postale, soprattutto sui commenti più spinti. Lo faccio per me stessa e per i bambini che ci vedono come esempio.